ciao allora benvenuti nei video delle scoperte del periodo e la prima scoperta di cui vi parlo questo mese è di questo prodotto eccola qua è una crema con una prima per i piedi della podovis crema piedi e unghie azione emolliente ultra idratante allora la confezione è un 100 ml io l'ho comprata alla saponeria a 3 euro e 95 ora ve la mostro è questa qui allora cosa dire di questa crema intanto non ha proprio l'effetto super nutriente che promette comunque sia credo che ultra idratante formula d'origine svizzera tutte queste cose però comunque sia la crema che è usata tutti i giorni dopo la doccia perché no e comunque si attiene idratati i piedi io adoro la confezione che sembra proprio un piedino questa è carinissima la cosa che è se non ricordo male esatto ha un forte profumo di canfora e mentolo che rendono la pelle subito una sensazione più fresca quindi anche dopo i piedi stanchi davvero è molto valida come azione però durante la stesura attenzione perché potrebbe questo profumo dare fastidio agli occhi ma comunque sia soprattutto in estate secondo me è molto valida soprattutto quando si ha i piedi stanchi le gambe stanche assorbe molto velocemente l'odore comunque di mentolo e canfora non persiste sulla pelle perché no non mi dispiace ma comunque preferisco preferire sempre la mia solita la lavanda del libro che secondo prodotto che vi mostro e che ho completamente finito è questo smalto indurente della Sally Hansen questo Hard S Niles che dice di essere indurente effettivamente la confezione da qualche parte eccola qua è un 13,3 ml e ho segnato il prezzo che ho preso da Tigota e costa 6,90 euro allora prima cosa da dire questo non contiene formaldeide poi effettivamente funziona abbastanza c'è un argero risultato l'ho visto perché le unghie si scheggiano meno facilmente oltretutto mi piace un sacco il pennellino ha il prodotto l'ho completamente finito il pennellino è sottile ma bello lungo quindi prende il prodotto proprio fino in fondo e questa è una cosa che mi è piaciuta poi ha un leggero effetto lucido asciuga velocissimamente ora che lo applicate partite dal pollice arrivate al mignolo il pollice è già asciutto quindi davvero è molto veloce e dura abbastanza come base lo trovo perfetto ma che da solo perché ho detto che ha questo leggero effetto lucido comunque questa è la confezione e secondo me ha un rapporto qualità prezzo niente male quindi oltretutto non contiene formaldeide e quindi mi è piaciuto e come ultima scoperta per questo mese è eccola qui allora questa è la crema della dell'idea o dell'idea bio crema fruida idratante happy hour al chinotto sapete che ne avevo prese varie questa è l'ultima basta non ce ne sono più 150 ml l'ho segnata 3 euro e 99 prezzo pieno 0 99 in offerta da tigota quando l'ho presa io made in italy con certificazioni bio e mi piace allora intanto ha un potere idratante medio basso quindi va bene da applicare tutti i giorni dopo la doccia però se non avete la pelle eccessivamente secca oltretutto essendo una crema bio lascia un pochino di scia bianca ma comunque andandola ad applicare si stende bene e dopo sparisce quasi completamente il profumo si me lo ricordo ecco il profumo di chinotto è delicato si sente ma non persiste sulla pelle quindi è una crema che ora ve la mostro questa qui è una crema bio comunque sia un po sfiziosa che comunque sia va bene anche per tutti i giorni perché assorbe come ho detto velocemente ma io non ricomprerei perché ne preferisco altre comunque sia queste erano tutte le scoperte del periodo fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come siete trovate io come sempre spero di essere stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così vi avrete avvisato ogni volta che carico un nuovo video e ultima cosa mi raccomando seguitemi anche su instagram perché se ho dei prodotti in confezione grande che quindi posso provare per più tempo vi faccio la recensione del video ma se ad esempio un campioncino oppure una cosa da che posso provare un paio di volte vi faccio le first impression su instagram quindi mi raccomando di seguirmi anche lì così non perdete proprio nessuna recensione alla prossima ciao ciao